ciao a tutte visto che siamo in piena estate ho pensato di realizzare un tutorial per spiegarvi una nuova tecnica che potrete utilizzare per realizzare dei braccialetti estivi molto carini che ricordano un po il ricamo a macramè insomma che vediamo spesso sulle spiagge o in quei negozietti nei luoghi di mare insomma è una tecnica molto semplice ma ad occhio sembra invece molto più elaborata allora vediamo come si realizza allora dobbiamo cominciare realizzando due catenelle le nostre classiche catenelle quindi prima catenella cerchiamo di tenere il lavoro morbido seconda catenella ora passiamo l'uncinetto all'interno della prima catenella e facciamo passare il filo avendo insomma due asole sopra l'uncinetto prendiamo il filo e facciamolo passare attraverso entrambi i punti in questo modo a questo punto voltiamo leggermente il lavoro qui e facciamo passare l'uncinetto in questo punto in questo punto qui prendiamo il filo e facciamolo passare solo nel primo punto ottenendo di nuovo due asole qui sul incinetto riprendiamo il filo facciamolo passare attraverso entrambi i punti voltiamo di nuovo leggermente il lavoro facciamo passare l'uncinetto qui in queste due asole prendiamo il filo e facciamolo passare sulle prime due saltando l'ultima quindi avendo di nuovo le due asole sopra l'uncinetto riprendiamo il filo e lo facciamo passare da entrambe rivoltiamo passiamo l'uncinetto di nuovo nelle due maglie prendiamo il filo e lo facciamo passiamo l'uncinetto di nuovo le due asole sopra prendiamo il filo e lo facciamo passare di nuovo per entrambe e rivoltiamo quindi ripassiamo in tutte e due i punti riprendiamo i punti riprendiamo il filo e facciamo passare di nuovo riprendiamo il filo e facciamo passare di nuovo solo nel abbiamo due asole di nuovo prendiamo il filo e ripassiamolo rivoltiamo ripassiamolo di nuovo nei due punti solo nelle prime due due asole e di nuovo a questo punto si incomincia a intravedere il motivo che se continuate diventerà di questo tipo si possono realizzare dei braccialetti molto carini io ne ho un altro fatto qui con la stella oppure potete insomma sbizzarrirvi come più vi piace e insomma è abbastanza semplice però davvero un gusto di effetto ciao io ciao 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 Grazie a tutti.